Presentato a Perugia il numero unico per le emergenze, il 112, è operativo da oggi in provincia di Perugia, nella zona di Orvieto, che utilizzano i prefissi 075-0763. Partirà dal lunedì prossimo anche nel resto della regione, nelle aree di Terni, Foligno e Spoleto. A gestirlo la centrale unica che si trova ad Ancona. Questa era la centrale unica di risposta per le regioni Umbria e Marche e con questa iniziativa ha avuto una fortissima accelerazione, proprio a partire da quest'estate, su impulso delle due regioni, Umbria e Marche, che hanno fortemente stimolato il lavoro di implementazione in vista dell'attivazione. Sostituirà il 118 per il soccorso sanitario, il 115 per i vigili del fuoco e il 113 per la polizia. Digitando 112 da telefoni fissi, cellulari, ma anche via SMS, app, alerta automatici e e-call, risponderà un operatore che indirizzerà la chiamata alle forze dell'ordine o ai servizi competenti, rendendo più efficaci gli interventi. Tra le novità, la geolocalizzazione del chiamante, se il servizio sarà attivato con l'hub 112 Where Are You, oppure da telefono fisso. Meno precisione, ma comunque possibile localizzazione anche per le chiamate dai cellulari. Meno precisione, ma comunque possibile localizzazione anche per le chiamate dai cellulari.